La mia influenza sta peggiorando sempre più, quindi spero di riuscire a portarvi un contenuto accettabile dal punto di vista di quello che potete sentire. Praticamente ho una voce nasale di quelle insopportabili. Chiedo scusa in anticipo, ma quando cambia il tempo e la stagione, tutti gli anni cado all'interno di questo brutto raffreddore. Le pagelle di Udinese 0 Juventus 2. Come ho definito ieri, una partita dove noi abbiamo fatto il nostro, ma allo stesso tempo una partita che a me ha convinto, è una partita che mi è piaciuta, è una partita che ho cercato di analizzare anche in un'altra veste e da un'altra ottica nell'ultimo video che ho pubblicato. Mi sarebbe piaciuto dirvi questa mattina, ma vi ho fatto un regalo, ve l'ho portato già nella tarda serata di ieri intorno a mezzanotte rotto. Ho visto che tanti notturni sono stati contenti, stavano magari andando a letto e non aspettavano altro, oppure semplicemente non avevano sonno e se lo sono pappati. Poi ci sono gli altri che magari erano a lavoro, ieri sera si sono svegliati questa mattina, hanno finito i turni, oppure se la sono presa cal tranquillamente, proprio come una classica domenica, e se lo sono gustati questa mattina. Ma a me la Juventus è piaciuta, torno a dire, è stata una partita convincente per la Juve, una partita dove la Juve ha fatto assolutamente il suo, dove la Juve è riuscita ad andare in vantaggio nel primo tempo per due gol a zero, nel secondo tempo mi sarebbe piaciuto vedere qualche gol in più, ma la Juventus ha raggiunto una maturità tale da riuscire a gestire la partita. Ho portato un'analisi che parla di Cobmeiners, proprio inerente a questa roba qui, proprio nell'ultimo video, ma andremo ad approfondire il discorso Cobmeiners anche all'interno di queste pagelle. Di Gregorio, sei e mezzo, un paio di parate veramente importanti di quelle che hanno tenuto a galla la Juventus. Mi è piaciuta vedere questa risposta di Di Gregorio, se posso non mi è sembrato super sicuro nelle uscite, ne parlavo anche ieri in live su Twitch quando abbiamo guardato la partita. E poi una provocazione, ieri Tiago Motta per la prima volta non ha schierato Perin prima di una partita di Champions, cosa che invece aveva fatto nelle precedenti tre. Sarà Perin il titolare di Champions, perché mi viene a pensare questa cosa qui. Lo vedremo, però ho questo pensiero in testa, chissà che non possa averci beccato. Savona 7, perché credo che sia stato uno dei migliori in campo, per un motivo, quel gol lì è troppo importante. Chiudere la partita in quel modo, già nel primo tempo, è troppo importante. Oltre, in realtà, una buona disponibilità del ragazzo in fase di spinta, in fase di impostazione, in fase di sovrapposizione, con Weha ha formato una buona catena di destra. Si sono mossi molto bene, sembravano voler cercare di prendere in velocità, in profondità, per cercare di rubare quello spazio agli avversari. Quindi mi sono piaciuti, tutti e due, su quella corsia lì. Però quel gol che fa Savona è un gol troppo importante, è un gol anche strano da vedere per un ragazzo che gioca in difesa, che è alla sua, credo, ottava partecipazione con la Juventus in Serie A. Perché lui la va a piazzare. Ha una grande intelligenza nel cercare la giocata da biliardo. Nove volte su dieci, arrivi lì, arriva un difensore, a rimorchio, da dietro, con il suo piede debole. Che cosa fa? Mette tutta la potenza del mondo e cerca di chiuderla per evitare una ripartenza. Savona, invece, è andato a calciare, a concludere con una delicatezza veramente molto importante. Qualità che non trovi così facilmente all'interno di un ragazzo che non ha confidenza con la competizione, perché fino all'anno scorso giocava due categorie sotto, che sa benissimo quanto è pesante la maglia della Juventus, che arriva in corsa in una porzione di campo non sua, non due sua appartenenza, con il piede debole. È un gol importantissimo, tant'è che è stato poi valutato come MVP della Serie A. Non sono d'accordissimo perché per me il giocatore che ha fatto vedere di più in campo è stato Turam, ma è condivisibilissimo voler rodare comunque a Savona perché è stato autore di una super prestazione. Veramente bravo, bravo, bravo. Ieri sera gli ho scritto su Instagram e gli ho detto «Ma ti rendi conto?» Lui mi ha risposto «No, faccio ancora un po' fatica a crederci». Però si sta prendendo veramente tutto quello che di buono sta raccogliendo, un impatto importantissimo con la Juve, e credo totalmente meritato. Bravo Savo. Calulu, sei e mezzo. Li vado ad analizzare insieme, Calulu e Gatti, perché credo che alla fine la prestazione sia la stessa. Molto bravi su Davies e Tawen. Hanno sofferto un po' di più quando è entrato Lucca, però hanno preso molto bene le misure e i due attaccanti titolari dell'Udinese sono riusciti a evitare, bene o male, delle grosse occasioni per gli avversari, se non in occasione di quella palla che abbiamo poi perso a inizio del secondo tempo, dove Davies è andato a concludere. Lì c'è stata purtroppo una lettura di Locatelli giusta, ma un'esecuzione sbagliata, quel pallone che passa dietro Locatelli e Gatti si ritrova l'uno contro uno, deve cercare di portarlo fuori, fa quello che può fare, poi c'è la gran risposta, la gran paratina di Gregorio. Però Calulu e Gatti, secondo me, hanno fatto una buona prestazione, anche perché sono importantissimi difensori del gioco di Tiago Motta, dato che si inizia sempre l'azione da dietro e bisogna cercare di massimizzare la qualità nei passaggi. Lo torno a dire, è un concetto che ho espresso anche nel video di ieri sera, c'è una Juve con Danilo, una Juve senza Danilo, c'è una Juve con Cobbeners e una Juve senza Cobbeners. E non significa, anzi questo discorso lo facciamo dopo, quando arriviamo a Cobbeners. Cambiaso, voto 6 e mezzo. Mi è piaciuto tanto nel primo tempo, mi è piaciuto meno nel secondo tempo, un po' calato, però nel primo tempo è stato il cambiaso che conosciamo, quello preciso, quello che va a impostare, quello che va a aiutare la Juventus in palleggio, quello che vogliamo sempre vedere, quello che era mancato con il Parma. Mi dà sempre la sensazione di essere stanco, perché poveraccio, davvero non salta una partita, mi dà sempre l'impressione di dover riposare. Per il momento forse questa cosa non è ancora possibile, però cambiaso, direi che il suo 6 e mezzo se lo porta a casa. Locatelli, voto 6. Un'altra buona prestazione di Locatelli, mi è sembrato un po' calato nel finale, forse anche per via di quel cartellino giallo che si è andato a prendere, boh, cartellino giallo strano, perché io non credo che fosse giallo quello, però se fischi fallo ci sta che tu voglia dargli il giallo, ma secondo il metro che ha tenuto l'arbitro in tutta la partita, quello non è giallo mai, e credo che la partita di Locatelli sia stata condizionata successivamente da quel provvedimento disciplinare, tant'è che a un certo punto pensavo uscisse lui, invece è uscito Turam, Tiago Motta non ha voluto rinunciare a Locatelli, ormai Locatelli è un uomo fidatissimo di Tiago Motta, un titolare inamovibile, ieri tra l'altro con la fascia di capitano al braccio, ha fatto una buona partita, ma non arriva al 6 e mezzo, perché nel finale l'ho visto troppo 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 calato, però è l'ennesima buona prestazione di Locatelli, che sembra un giocatore pienamente recuperato rispetto all'anno scorso. Turam voto 7, credo che sia il migliore in campo, un paio di errori, perché anche lui ha fatto un paio di errori, ma come gli ha fatti Cambiaso, ha perso una palla sanguinosa nel secondo tempo, incredibile non da lui, però si vede un Turam diverso, cioè mi sembra veramente un giocatore, come diceva ieri Tiago Motta, in conferenza stampa post partita, non solo posizionale, ma che può portare la palla, può spostarsi nello spazio, ed è completamente diverso dall'idea che mi ero fatto di Turam nelle prime apparizioni tra amichevoli e Serie A, perché Tiago Motta all'inizio lo usava veramente come perno davanti alla difesa, lo ricorderete, il giocatore che si metteva davanti alla difesa e faceva partire l'azione, Turam non fa più quel ruolo, cioè all'inizio lui giocava, Tiago Motta, con Turam davanti alla difesa e Locatelli che andava più alto sulla trequarti, anche ve lo ricorderete, abbiamo visto Locatelli trequartista, non lo fa più, dall'infortunio di Turam in poi ha cambiato completamente, Locatelli lo mette davanti alla difesa e Turam lo mette invece a stantuffo in giro per il campo, io credo che Turam abbia davvero tanto da recuperare dal punto di vista fisico, perché non lo vedo assolutamente un giocatore ancora inserito completamente nella Juve, però mi sembra un giocatore che può dare qualcosa sul lungo a questa squadra, ha bisogno di ritrovare fiducia, ha bisogno di trovare continuità, ha bisogno di trovare, ripeto, un certo tipo anche di preparazione atletica, perché probabilmente ha perso tanto e con quel fisico è difficile rientrare in forma, però mi sembra un giocatore che può dire la sua in questa Juventus sul lungo. Quest'estate dicevo attenzione, quando noi prendiamo Rabiot, che non era il Rabiot dell'ultima stagione, io non sono mai stato un amante di Rabiot, però nelle ultime due stagioni Rabiot aveva un peso differente in campo, vi dicevo attenzione, perché Turam oggi non è forte come Rabiot, come il Rabiot di oggi, non ti dà la stessa roba in campo, quindi non è che dai via Rabiot, prendi Turam, ci hai guadagnato, lo fai sul lungo, e questo è il concetto ancora che voglio esprimere, perché secondo me questo ragazzo del potenziale ce l'ha dentro di sé, nascosto da qualche parte, ma più che nascosto, ripeto, secondo me non è ancora riuscito a tirarlo fuori per via di una condizione atletica spezzettata, fa la preparazione, si fa male, sta fermo, ritorna, gioca un po' sì o un po' no, non abbiamo visto ancora delle grandissime prestazioni di Turam, quella di ieri credo sia stata la migliore, in assoluto, quando veste la maglia della Juventus, però è un giocatore sul quale si può lavorare, questo sì, non dico che diventerà il nuovo Pogba, perché sono giocatori completamente differenti, ma poi non mi piace neanche fare questo tipo di paragoni, però è un giocatore che ha delle qualità, ed è un giocatore che le può tirare fuori, e quindi sono contento che ieri abbia fatto una buona partita, tant'è che secondo me è stato il giocatore migliore in campo, sia per la Juve che per l'Udinese, in generale, l'MVP della partita. Abbiamo Cobb Mainers, voto 6, e qualcuno dirà, ma Luca, ma ci hai sfracassato i coglioni, proprio per usare il francese, sia con dei post, sia con il video, Cobb Mainers l'insostituibile, mi è piaciuta la prestazione di Cobb Mainers, e poi gli dai 6? Sì, ma vi spiego anche il perché. Cobb Mainers, come dicevo anche comunque nel video post partita, dal punto di vista fisico, è molto indietro, peggio di Turam, perché comunque Turam è tornato da un po', Cobb Mainers si era fratturato una costola, è stato fuori, è anche un infortunio un po' stronzo, ti permette di respirare male, quindi dal punto di vista proprio atletico, Cobb Mainers era un copertone, ha giocato quasi da fermo, è quello che vi dicevo prima però, esiste una Juve con Danilo, è una Juve senza Danilo, esiste una Juve con Cobb Mainers, una senza Cobb Mainers, quando Danilo ha giocato, non è che tutti i gol sono nati per colpa di Danilo, non è quello, si erano d'accordo su questa cosa qui, non è che la Juventus, nelle tre partite che ha giocato a Danilo, ha preso sette gol, perché Danilo ha sbagliato sette volte, ci sono state delle volte in cui ha sbagliato Calulu, delle volte in cui ha sbagliato Gatti, delle volte in cui ha sbagliato quegli altri, è successo, cioè ce lo ricordiamo, però Danilo era lì, e dal punto di vista della presenza, andava a modificare quello che era, l'impostazione da dietro la Juventus, la solidità difensiva della Juventus, gli automatismi della Juventus, anche la condizione psicologica della Juventus, perché Danilo è un giocatore che, comunque si lamenta tanto in campo, è fatto così, quindi c'è anche caso che i compagni, da quel punto di vista, possano avere qualcosina in meno, però è la presenza del giocatore che cambia il modo di giocare della squadra, la stessa cosa la possiamo dire per Cobbeners, non ha toccato tanti palloni, non è entrato tanto dentro le azioni determinanti, ha sbagliato un gol clamoroso, sono tutte cose verissime, ma quanto è stata diversa la Juventus davanti con Cobbeners, rispetto alle partite che abbiamo citato in precedenza, nel video di ieri sera, che sono state l'Alassio, lo Stoccarda, l'Inter e il Parma, cioè è ovvio che, come non può sbagliare sempre Danilo, all'interno del gol, ma influenza la squadra, non può fare tutto Cobbeners, ma influenza la squadra, l'equilibrio che ti dà la presenza di Cobbeners in campo, e di questo Cobbeners che, fisicamente ripeto, è a terra, è un copertone bucato, ma quanto equilibrio ti ha dato la Juventus, la Juve, quanto è riuscita ad andare a pressare meglio, quanto è riuscita ad andare a reaggredire meglio, quanto è riuscita a cambiare lato con più frequenza, quanto è riuscita ad avere più qualità, più fluidità nel palleggio, più fluidità nel palleggio, e non significa che passi sempre a Cobbeners, ma significa che influenza il modo di giocare della squadra, questo è quanto, quindi la prestazione di Cobbeners per me è da 6, forse anche 6 e mezzo, ma forse 6 e mezzo sarebbe esagerato, sono d'accordo con voi, ma il fatto che Cobbeners sia un giocatore insostituibile, fondamentale, forse il più importante davanti per la Juve, questo è un altro rifatto, e lo fa soltanto mettendosi in campo perché ha delle qualità, delle caratteristiche che non sempre puoi osservare semplicemente guardando il giocatore, devi guardare osservando il complesso della squadra, la coralità della squadra, e questo lo fa, questa è la mia valutazione su Cobbeners, non la partita migliore del mondo per Cobbeners, anzi, ripeto, ho sbagliato un gol che deve fare, assolutamente, l'ha ciccata male, l'ha colpita male, deve fare degli assist, certo, deve fare di più, 60 milioni, certo, sono tanti soldi, deve tirare fuori il suo, ma non venitemi a dire che è un flop, questo è l'integrazione a quello che ho letto nei commenti, visto che tante persone non sono state d'accordo con me, ma questo è il motivo per cui vi dico Cobbeners fondamentale, la partita di Cobbeners ha cambiato la Juventus, e l'ha fatto in una partita in cui fisicamente era a terra, quando questo ritroverà la condizione, secondo me sarà un giocatore fenomenale, di quelli che veramente andremo a stropicciarci gli occhi per avere in campo, nei due centesimi, in mia scommessa, ma credo di non sbagliarmi di tanto, bravo Teun, Weah, 6 e mezzo, mi è piaciuto, soprattutto in combinazione con Savona, lì sulla fascia destra, è un Weah sicuramente ritrovato, quello che stiamo vedendo oggi, poi traslocato anche a sinistra, per permettere a Ildis di andare a fare il falso 9, una buona partita di Timothy anche oggi, la conferma, dopo due partite in cui addirittura andava in gol, Ildis, 6 e mezzo, non la partita migliore del mondo, ma quanti, come possiamo dire, quanti, non mi viene il termine, Guissi, ecco, Guissi, mi veniva, Frissi, Fabrizio Frissi non c'è entrante, quanti Guissi di Ildis, da un momento all'altro, veramente dei lampi, così, prendeva palla e andava, c'è stata soprattutto quell'azione in cui, insieme a Vlaovic, sono poi andati su Weah, la palla si è alzata, arriva Vlaovic in corsa, lì Ildis ha fatto vedere il repertorio di Ildis, dare a falso 9, è medio, e mi dispiace perché era un pezzo che volevo vedere Ildis in quella posizione lì, soprattutto perché non riusciamo a tenere sulla palla, vero che arrivavamo in un contesto, era un momento di gara in cui l'Udinese era sotto di 2, quindi doveva cercare di venire avanti, e quindi era normale che l'inerzia potesse essere a favore degli avversari, e quindi in quel momento devi cercare di tenere sulla palla, ma non è facile, indubbiamente, però mi è sembrato un po' troppo leggerino nel possesso palla, soprattutto quando andavamo a cercarlo dopo un break, rispetto a un'azione dell'Udinese, quindi, secondo me lo può fare, nel gioco di Tiago Motta, quel ruolo, ma deve migliorare sicuramente, perché è stato uno spezzone di gara che non mi è piaciuto, per il resto credo che sia stata una buona prestazione di Ildis, da 6,5. Vlaovic voto 6, sicuramente il giocatore meno appariscente della Juve, pochi palloni giocabili, pochissimi palloni giocabili, però tanta disposizione, si è messo tanto a disposizione della squadra, e questo, quando un attaccante non ha dei palloni giocabili, è quello che deve fare. Sul finale, quando ha capito che stava uscendo, ha aumentato i giri del motore, ha cercato di fare gol, secondo me sentiva nell'area la sostituzione, non la miglior partita di Vlaovic, ma neanche una partita insufficiente, dove dal punto di vista tecnico, è comunque riuscito a dare il supporto al team. McKennie, subentrato, voto 6, niente da dire, così come con Seisau, un paio di ripartenze insieme a Ildis, anche una sul finale, dove Ildis era stremato, però un paio di giocate interessanti, tra Ildis e con Seisau, tra Ildis che faccia l'attaccante e con Seisau all'esterno, si sono cercati, hanno parlato un po' la stessa lingua, peccato che Ildis era veramente distrutto in quel frangente, però con Seisau ha avuto un buon impatto sulla gara. Per il resto, Cabal da senza voto, così come Danilo da senza voto, hanno giocato veramente una decina di minuti più recupero, troppo poco per valutarli, una buona chiusura in realtà di Danilo nel finale, mi pare di testa, e poi Bangula che è subentrato, anche lui pochissimi istanti, senza voto anche se aveva servito un ottimo assist a Cobb Mainers, e poi è lì che Cobb è andato a smasticarsi quel pallone e l'ha buttato praticamente in bocca agli avversari. Queste erano le mie pagelle, fatemi sapere se siete d'accordo con me, ancora una volta vi chiedo scusa per questa voce nasale, ho fatto 17 minuti in apnea, ora interrompo il video e vado a soffiarmi il naso che non ce la faccio più. Ciao a tutti ragazzi!